Destinazione Futuro, un progetto per parlare d'Europa con i ragazzi. Cosa devono sapere i ragazzi dell'Europa? Intanto è bello trovarne così tanti qui e sapere che in un periodo in cui l'Europa è anche in discussione ci siano così tanti giovani e ragazzi che ci credono in questa nostra Europa. E poi è importante che sappiano che ci sono dei programmi europei, appunto il FESR e il Fondo Sociale Europeo soprattutto che potrebbero in futuro aiutarli appena usciti dall'ambito scolastico per la creazione di nuova impresa per il supporto a iniziative imprenditoriali, corsi di formazione specifici per collegare l'impresa al mondo studentesco e quindi è importante che siano consapevoli di tutte queste opportunità e di tutti i fondi messi a disposizione dalla Commissione Europea.